Cari amici di LumaFugitalia, benvenuti finalmente in questo video. Come vedete alle mie spalle ho un iPad con un software molto interessante che permette, o permette, tra virgolette, l'esportazione di filmati con possibilità di cambiare a tempo di musica gli effetti. Solo effetti perché non immagini, solo gli effetti che è all'interno. L'esportazione avviene in una maniera un pochino diversa da comune. Andremo a vedere come, perché non permette una vera esportazione. Però quanti di voi si sono picchiati finora con software magari complessi, meno complessi, liberi, cioè intendo free come money oppure a pagamento per fare degli effetti in questo genere come vi sto facendo vedere in questo momento io che cambio in tempo reale gli effetti sulla mia voce. Quindi quanti di voi hanno, ovviamente, sprecato anche abbastanza tanto tempo per poter, diciamo, realizzare degli effetti così per poi utilizzare come sfondo. Andiamo a vedere come fare dopo la sigla. Andiamo a vedere allora questa applicazione, cosa può fare questa stella. Spero che l'abbia pronunciato bene, ma io sono pessimo, in italiano e anche in inglese. Quindi lanciamola e andiamo a vedere subito l'interfaccia di questa applicazione che a mio avviso è molto bella, non come interfaccia ma come applicazione. Vediamo subito sopra, abbiamo una riga di stili. Questi col pallino sono quelli che sono in dotazione e uno l'ho acquistato, come non mi ricordo qual è, e gli altri col triangolo sono quelli a pagamento che infatti cliccando sopra vedete che viene fuori il prezzo di 4,49 euro. Ho detto una scemata, si può registrare lo schermo direttamente dall'applicazione però pagando 5,99 euro. Dunque, allora, iniziamo da sopra. Qui possiamo selezionare il tipo di stile. Vedete, ogni pallino ha un suo stile. All'interno abbiamo una scelta di forma, ok? Che possiamo ovviamente intercambiare cliccandoci sopra, ok? Ogni, diciamo, ogni stile contiene una forma, che è proprio la stessa, e solo, anche qua ne contiene di più, solo questo anche. Questo stile no perché, vi faccio vedere subito, non vedrete l'iPad che si gira, però vedete che io sto girando adesso fisicamente l'iPad e col giroscopio agisce a seconda di come io posiziono il mio dispositivo. Questo non lo so, non ho ancora capito che effetto fa, invece anche questo qua è la stessa cosa. Vedete che gira proprio, guardate un po', ok? Anche questo gira a seconda di come metto il mio dispositivo. E qui abbiamo una bella cometa. Ora, analizziamo questi tasti qui, queste funzioni qua. Uno ci permette di inserire un'immagine col tasto più, andate nella vostra galleria e prendete un'immagine che volete mixare con questi strepitosi effetti, ok? Ecco, non c'è la possibilità ovviamente di spostare l'effetto che io sto facendo, ok? Non posso prendere, diciamo, questi fuochetti d'artificio e spostarli da un'altra parte. Posso, sull'immagine ho l'opacità, ok? Ho l'opacità. La possibilità di avere degli overlay da poter mixare insieme agli effetti per spostare, diciamo, in default il primo. Per spegnere l'immagine basta cliccare di nuovo sull'immagine e l'immagine viene eliminata. Non è eliminata dalla memoria, però vedete, finché non è sostituita con un'altra. Proviamo a mettere un'altra. Così vi faccio vedere, ovviamente, come sono bravo a utilizzare questa applicazione. Volevo cercare... Dunque, dunque, dunque. Ok, perfetto. Tra l'altro carica anche il cloud, quindi è una cosa bellissima. Spegniamo l'immagine. Abbiamo la tovolozza dei colori che ci permette di cambiare i colori, l'UE, tutti i vari parametri che conosciamo. Per tornare in modo default, due cliccate, vedete, e torna in modo di default. Abbiamo gli FX che possiamo utilizzare. Anche qui due cliccate e torna tutto, diciamo, in modalità default. Abbiamo l'angolo. Questo gli FX agiscono anche... Non tutti. Qualcuno agisce anche sulle immagini. Tornare in default, due cliccate su ogni parametro. Spegniamo l'immagine e andiamo avanti. Spegniamo la tovolozza e gli FX. Sotto abbiamo una serie di opzioni. La prima riguarda la titolazione, il titolo del brano, se vogliamo farla apparire o no. La posizione minimale in alto a destra oppure al centro. Questo non so, non ho ancora capito cosa serve. Non l'ho provato, ma non ho capito. Forse non interessa nemmeno. La lingua, l'input, da dove dobbiamo scegliere la nostra fonte sonora oppure come deve agire la nostra applicazione. E qua abbiamo ovviamente l'input del volume. Da regolare. Un'altra serie di opzioni che poi vedremo nel corso dei tutorial, se vi interesseranno. sotto abbiamo la possibilità di... intanto questo cerchione, un cerchione grosso, ci permette di selezionare quattro modalità. La prima che è già selezionata è che l'effetto vada solo, avendo la possibilità di selezionare tre modalità diverse. A, B, C. E questo mentre l'intensità. La seconda è bellissima, perché mi piace tantissimo, è quella col microfono. che praticamente parlando, vedete che parlo e l'effetto va a tempo di musica, a tempo della mia voce. Mettiamone un altro per far vedere che veramente dico così e così potete ovviamente regolare il volume di entrata, ok? E la stessa cosa potete fare qui, ovviamente, la stessa cosa, identica cosa. Ok? Quindi abbiamo la possibilità di poter fare entrare anche la nostra voce, vedete anche la nostra voce, all'interno di questa applicazione. La terza modalità è la modalità sicuramente, la terza, scusate, la terza modalità è la sicuramente più interessante, me la vediamo dopo. La quarta modalità è la possibilità di importare da iTunes i brani nella libreria, ma io non ci sono, ragazzi, riuscito, ok? Che poi non è neanche, non importa neanche, perché poi non si possono neanche mettere, sono coperti da copyright, bisogna usare musica non coperta da copyright. Quindi la terz'ultima opzione è quella che ci interessa. Cosa dobbiamo fare per caricare un brano in questa applicazione? Non dobbiamo fare altro che fare un drag and drop all'interno della nostra cartella. Andiamo in file, io seleziono una musica da mio iPad all'interno di LumaFusion, dunque, non mi ricordo mai, library media, story block sticks, allora, ho una musica un po' veloce, dunque, dunque, alzo un po' il microfono nell'iPad, perché prima l'ho abbassato, perché sennò faceva ritorno. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', cosa posso prendere, ce ne ho prese una prima, era una lagna, ragazzi, incredibile. Allora, dunque, eccola qua. Dunque, un tap lungo, copia, ritorniamo nell'iPad, andiamo in stella, un tap lungo, incolla, e la nostra immagine, la nostra musica viene copiata. Andiamo, ritorniamo di nuovo qui, ridiamo il comando della cartella, vedete che è apparsa la nostra musica. Come clicco, lei si avvia. Quindi avete visto come è semplice, stoppandolo ovviamente si stoppa anche l'effetto. Come faccio ora a registrare ovviamente il mio filmato sull'iPad senza avere magari 5,990? Niente, con la registrazione schermo, spero che tutti la sapete fare, non dovete utilizzare il microfono, dovete spegnere il microfono quando utilizzate questa funzione e registrare lo schermo dal vostro iPad, ovviamente mettendolo, cliccando sopra per eliminare tutti, tutti diciamo, gli elementi sullo schermo. Quindi, una volta cliccata sulla canzone, fate partire ovviamente la registrazione dello schermo, prima e dopo fate partire il vostro filmato in play. Poi si fermerà ovviamente la musica da sola e terminerà il tutto. Ecco, una volta terminata, ovviamente potete stoppare la registrazione a schermo. Adesso andiamo in Lumen Fusion a vedere cosa possiamo fare. Una volta che abbiamo esportato il nostro filmato, lo troviamo nella libreria, ma io ovviamente avendo pagato 5,90 euro, lo vado a prendere, vi faccio vedere anche in questa maniera, vado su file, ok, ho già creato, no, la cartella non l'ho ancora creata, vado dentro, collegamento, vado a prendermi dal mio iPad, la cartella stela, e trovo qua dentro il mio file multimediale, documenti, giustamente, ha ragione. Allora, eccola qua, e questa, è quello che abbiamo prodotto. Io vi faccio vedere, mettiamolo un po' alla fine, eh? Ecco, lo facciamo incominciare di qua, lo buttiamo nella nostra timeline, e subito andiamo a fare qualcosa di bello. Se vogliamo mixare, ovviamente che sia, la traccia principale è mixata con le immagini sopra, la lasciamo qua, altrimenti la spostiamo su, dobbiamo anche non ridimensionarla, ma ottimizzarla per lo schermo. Andiamo su, la pos- scusate, sì, fit, ok, e la facciamo a tutto schermo. Ora, andiamo a prendere qualcosa, il nostro story block, quello che vogliamo, attinente, non attinente, come volete. dunque, filmati, cosa ci possiamo mettere? Mettiamoci un po', allora, dancer, dancer, vediamo dancer, ecco qua, vedete questa qua, sul bianco, vediamo un po' che effetto fa, la buttiamo sotto, ok? E a questo punto, andiamo sul nostro filmato principale, e andiamo a mixare il nostro filmato, diciamo, la clip secondaria con quella principale, vedendo un po' l'effetto che più ci aggrada. Quindi, abbiamo capito che possiamo, praticamente, prendere delle immagini, ok? Delle immagini, da story blocks, che ho messo dentro, possiamo prendere anche, che ne so, mettiamoci, dunque, star, qualsiasi cosa, è mixare all'interno, di questo, di questo stravitoso, diciamo, applicazione, di questo fondale, che è stato, praticamente, esportato, oppure, possiamo usarlo così, eh, io ho provato solamente, sapete, guardate qua, che bello, certo, ogni, eh, immagine, ha il suo, tipo di, di, eh, comando qui, cioè, di suo effetto, ovviamente. quindi possiamo utilizzare questa applicazione per fare i bei fondi, mixandoli con il nostro Fusion, con questa, diciamo, funzione nuova, che sono la funzione tra i livelli. Bene amici, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, ovviamente, mi fa piacere, e soprattutto commentate su questa applicazione, se è interessante, che costa, mi sembra, 3,99, a 3,99, ovviamente poi all'interno, come ho spiegato nei tutorial, forse, speriamo, che spiegherò, perché le sigle faccio dopo, o prima, seconda, e non mi ricordo mai cosa c'è nel tutorial, dicevo, a seconda degli effetti che volete, volete avere, certi, come vedete, sono a pagamento, quindi dovete acquistarli, però, eh, diciamo che è free, eh, quando la prendete che è libera, avete tanti effetti già pronti all'uso, quindi, io vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi ringrazio per aver seguito questo video, un abbraccio da Gennaro.